Sono 10 le persone iscritte nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Teramo sul sistema Gran Sasso in seguito agli sversamenti di sostanze inquinanti. La Procura Prutina ha firmato gli avvisi di conclusione delle indagini per i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per Strada dei Parchi e per Ruzzoreti e il reato ipotizzato è quello di inquinamento ambientale. Dunque avvisi di garanzia per il presidente dell'INFN Fernando Ferroni, per il direttore Stefano Ragazzi, per il responsabile ambiente dei laboratori del Gran Sasso Raffaele Adinolfi Falcone e per quello dell'area tecnica Dino Franciotti, poi per il presidente di Strada dei Parchi Lelio Scopa, per la D della concessionaria autostradale Cesare Ramadori, indagato anche il direttore generale di Strada dei Parchi Iginio Lai, il presidente della Ruzzoreti Antonio Forlini, il responsabile dell'unità operativa di esercizio del Ruzzo Ezio Napolitani e il responsabile del servizio acquedotto del Ruzzo Maurizio Faragalli. Per la procura le condotte colpose a vario titolo hanno cagionato o non hanno impedito il pericolo di compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque del Gran Sasso. Ai vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica viene contestato, in particolare, di aver mantenuto in esercizio i laboratori sotterrani senza aver verificato che vi fosse un adeguato isolamento idraulico e senza attuare le misure per scongiurare il rischio di contaminazione. Nell'ambito dell'inchiesta è stato disposto il sequestro delle opere di captazione delle acque destinate all'immissione in acquedotto, situate in corrispondenza dei laboratori, su ordine del GIP del Tribunale di Teramo Roberto Veneziano. L'inchiesta è affidata a un pool di magistrati composto dai PM Giovagnoni, Aloisi e Rosati e coordinato dal procuratore capo Antonio Guerriero. Questa inchiesta è nata anche dagli esposti delle associazioni ambientaliste e della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Adesso si arriva insomma a questo primo step che prelude ovviamente a tutto il resto del procedimento. Qual è la vostra valutazione? Cosa vi attendete? Beh, noi intanto apprezziamo l'indagine che è stata fatta perché è stata ad ampio raggio, ad ampio spettro. Le questioni dei reati andranno avanti, ovviamente le eseguiremo. Però adesso bisogna fare tre cose. La prima, allontanare le sostanze chimiche pericolose dai laboratori del Gran Sasso. Questa è la prima cosa da fare che abbassa di molto il rischio. La seconda cosa da fare è approvare la carta delle aree di salvaguardia delle acque potabili che noi aspettiamo da 12 anni, dal 2006. Da questo lo deve fare la Regione. E lo Stato. Lo Stato deve metterci anche le risorse economiche perché sicuramente servono importanti investimenti infrastrutturali per impermeabilizzare anche le gallerie autostradali e anche un intervento da parte del Governo sui laboratori che devono cambiare atteggiamento. Bisogna fare ricerca, assolutamente noi siamo per la ricerca ma con dei limiti e in quel caso i limiti sono che è un parco nazionale e che dà l'acqua a quella montagna a 700.000 persone.